Andiamo verso l'Urd, accompagnati dai nostri fratelli ammalati, dico accompagnati dai fratelli ammalati perché spesso noi pensiamo di accompagnare loro, in realtà spesso avviene l'inverso, sono loro con la loro forza d'animo, con la loro capacità di abitare il dolore ad accompagnare noi, a suscitare domande, a renderci migliori. Quest'anno lo facciamo anche in profondo collegamento con Montagnaga di Pinè, perché vogliamo che Maria sia veramente la grande discepola che orienta il futuro della nostra Chiesa, la discepola che ci insegna che non c'è alternativa per diventare umani all'incontro con l'umanità di Gesù. Con Maria vogliamo ancora una volta incontrare l'umanità di Gesù e dall'umanità di Gesù portare a casa la provocazione che da Lui viene qualità di vita, viene gioia, viene festa. Il nostro santuario di Montagnaga diventa un riferimento forte per pensare tutto l'anno alla grande lezione di Maria di Nazareth che attraverso Gesù ci regala la vita.